Luca mi fai sentire che ci sei bravo mi sto sentendo ragazzi almeno tre voglio un urlo che deve esplodere tutto uno, due, tre questo non è normale quanto siete belli a belli che si a ti piscari che manfezzi questo è Skrillex ragazzi avete voglia di fare un po' di foto? non so è una cosa però devo chiedertela è uscito il disco dei film due giorni fa quindi il film che uscirà poi lì ad ottobre diciamo due cose poi passiamo subito alle foto si è uscito è uscito quindi è bello è bello capito? vai allora mi raccomando ragazzi cominciamo si metterà qua voi G vieni allora ragazzi una cosa prima di cominciare se a tutti va bene allora tanto la foto la facciamo tutti ok? ok una cosa vi chiedo prima di cominciare vi va dire se facciamo tutti un urlo al mio tre che lo metto nel video è un altro vlog si siete? carichi ok vai vai siete? vai uno due tre grandi raga ma siamo a cominciare siamo nel vlog possiamo cominciare allora